Andare ad annaffiare i campi! Vai, beviò! Vai, cantiamo. Pronto. Parla il comandante. Passami il brigadiere, capo. Ecco, in questo momento non c'è fuori per una missione molto importante. Parla il comandante. 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 Alla salute! Vado a cercarlo. Brigati! Il comandante è al telefono! Parla il comandante. Brigadiere capo, Bazzacuzza, agli ordini, signor comandante. Cosa è tutto questo frastuolo? Stiamo inaugurando una nuova apparecchiatura per il cinema. Avete un cinema? Sì, il nostro villaggio ha appena ricevuto un proiettore. Proiettate anche il Cinegiornale. Il Cinegiornale? Lo proiettiamo, sicuro? Lo proiettiamo, certamente. Tutto il villaggio assistere all'opare della rivoluzione. Certo, comandante, certo. Guardate anche il canale delle forze armate. Lo faremmo con grande piacere, certamente. Cioè, se avessimo un televisore. Non avete il televisore, ma avete i comunisti. Dico bene. I comunisti? No. Questa è la nuova? No. Comandante, ecco. No, no, non ci sono, assolutamente no. Non vogliamo gente simile. Poi regliamo ordine, comandante. L'ordine. Pronto? 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 Comandante! Comandante! Sì, è notificato il tuo nome. Venga.